Amici di calciomercato.com, siamo qui da Milanello dove si è appena conclusa la conferenza stampa di Vincenzo Montella alla vigilia della gara con la Juventus. Il tecnico è esortato l'ambiente a non cadere nei tre anni della Juventus, cioè tanti complimenti che possono spostare l'attenzione su una gara che comunque vede naturalmente favorita la formazione di Massimiliano Allegri. Alcuni passaggi interessanti sulle parole del tecnico è quando mette da parte le critiche che sono arrivate in questa prima parte di stagione sul piano del gioco. Montella ha ricordato che il Milan non è mai andato sotto con nessun avversario, ha sempre tenuto testa a tutte le squadre che ha affrontato in questo avvio di stagione e ha anche esortato alcuni singoli a fare di più, soprattutto in termini realizzativi, specialmente riferendosi a Suso e Niang. Per quanto riguarda la formazione dovremmo vedere per dieci undicesimi la stessa della trasferta di Verona contro il Chievo. L'unico cambio sarà in attacco con Bacca che tornerà al centro appunto al posto di La Padula.